Oggi non c'è pace Ciao ragazzi Non mi è ancora andata giù la sconfitta di oggi E avete visto che cosa vuol dire avere un gioco? Avete visto cosa vuol dire avere un gioco? Entrambe le squadre, Roma e Milan Nonostante la Roma meritasse di vincere Perché Donnarumma ha fatto 3 o 4 miracoli Forse anche di più Me ne sarei sicuramente persi Perché stavo a fare 300 cose contemporaneamente La partita l'ho vista a spezzoni Però ho visto che Donnarumma ha fatto 4 o 5 parate Forse qualcosa di più, qualcosa di meno Insomma, intorno a quel numero E la Roma meritava di stravincere E questo a me mi fa sorgere un dubbio Cioè, la Roma che perde 7 a 1 in Coppa Italia con la Fiorentina Cioè, una Roma che praticamente Non so che difesa ci avesse Boh E in casa col Milan Che è più forte della Fiorentina Che cosa fa? Mi va a pareggiare Ma gli va stretto Meritava di vincere pure 2, 3, 4 a 1 Forse Ma Ma tralasciando questo, raga Tralasciando che Donnarumma ha fatto il fenomeno un'altra volta, ok? Ma Questo Avete visto cosa vuol dire avere un gioco? Avete visto cosa vuol dire avere un'idea di gioco? E non sparacchiare in mezzo Fare cross del cacchio in mezzo Così? A caso? Sperando nel miracolo? Questo vuol dire La Roma, raga La Roma è anche il Milan Perché Cioè, non vi fate ingannare Ok, il Milan meritava di perdere E va bene Ma perché la Roma ha giocato meglio Non perché il Milan ha giocato male Raga, il Milan mica ha giocato male Cioè Il Milan ha fatto Cioè Ha giocato sui contropiedi E li ha fatti bene Ma non Il Milan non fa cross in mezzo a cavolo Il gol di Piontek è arrivato su un cross Ma un cross Pensato Cioè Non la sparo in mezzo Tanto quello che succede, succede Cioè È un cross pensato da Paquetà Che tra l'altro ha fatto una giocata bellissima Perché Cioè Mezzo Non so quanti erano Mezzo a due Si è liberato Ha visto Piontek Ha messo in mezzo E Piontek Da rapinatore d'aria L'ha messa dentro Cioè ma Raga Ma avete visto per esempio Vi faccio un esempio Al 90 e passa esimo Lancio di Castiglieco Lancio di Castiglieco Millimetrico per l'Axalt Controlla di testa Se la porta sul destro Tira E Olsen para Quasi gol Cioè Queste Non è un lancio a caso È un lancio Perfetto Millimetrico Di Castiglieco Per l'Axalt Che la controlla di testa Cioè Non è Cristiano Ronaldo È l'Axalt Ok Non è che stavo parlando Di Cristiano Ronaldo Che ti fa la E ti fa la busta di tacco E poi E poi ti segna di Rabona No L'Axalt La controlla di testa Manda a patate Carstorp O chi è Il difensore Insomma E poi Tira di destro Che non è neanche il suo piede E poco poco segna L'Inter invece cosa fa Lancio per Perisic Prova Prova A puntare l'uomo E cross Male In mezzo Oppure Cross E messo fuori Le squadre Hanno capito ormai Le squadre serie Hanno capito ormai Come gioca l'Inter E questo è il fatto Il Milan Rega C'ha più alternative Ti bloccano le fasce E noi giochiamo centrale Ti bloccano centralmente E noi giochiamo sulle fasce Se all'Inter blocchi le fasce È finita L'Inter non gioca più Come abbiamo visto La Lazio Ci ha bloccato sulle fasce Il Bologna pure Il Bologna Ci ha bloccato sulle fasce Nonostante comunque Abbiamo avuto Qualche occasione Se la vogliamo chiamare Occasione I regali del Bologna Sono stati le nostre occasioni Oggi I regali del Bologna Sono stati le nostre occasioni E un'occasione Su una deviazione Deviazione di testa Di un difensore Del Bologna E Lautaro Martinez Che si mangia il gol Ma quelle sono state Le nostre occasioni I Cardi che si mangia il gol Su un passaggio Sul retropassaggio Sconsiderato Di Poli Poi il gol mangiato Da Lautaro Martinez Su una deviazione Di un difensore Del Bologna E poi quale Quale altra occasione Abbiamo avuto Ah beh Vesino L'unica occasione Buona Creata Creata bene Da noi Quella di Vesino Dopodiché Arrivederci Cross in mezzo E vediamo Quello che succede Questa è stata l'Inter Oggi raga Ma La partita di oggi Vi ho fatto vedere Due squadre Che sanno giocare a calcio Raga ma vede I Somme gioca la Roma E il Sharawi Avete visto Che numero ha fatto Sulla sinistra E poi Non ha cercato il cross Ha visto l'inserimento Di Zagnolo L'ha servito Zagnolo gli ridà palla Ma non crossando In mezzo Perché sa che Il Sharawi Andrà di là Cross in mezzo E il Sharawi Poi non riesce a controllare Allora provate Tacco Ma lì Se l'avessi toccata meglio Voi lo sapete Avrebbe stato un gol Proprio Da manuale del calcio Palla L'esterno va Sulla sinistra Inserimento Del centrocampista Palla di nuovo All'esterno Che taglia in mezzo E poi L'esterno Che fa gol Di piatto Di potenza Come cavolo Vapara a voi Perché la difesa Non l'ha seguito Questo è Il calcio Noi cross in mezzo De merda Quello non è calcio Quello è Proviamo a sculare Questo è dall'inizio Dell'anno Che l'Inter fa così Raga eh Solo in qualche partita Non abbiamo fatto così Per esempio Col Frosinone Ma il Frosinone Regà L'andata Il Frosinone Cioè La difesa del Frosinone È inesistente Ma pure lì Abbiamo giocato Sulle fasce Eh Pure lì Abbiamo giocato Sulle fasce Per esempio Due dei tre gol Che abbiamo fatto A Frosinone All'andata Però venivano Dalle fasce Una La sgroppata Di Politano E ok Quello non era figlio Di un cross Però va bene Però il gol Il gol di Lautaro Martinez Cross Lautaro Martinez Insomma Una difesa del Frosinone Non è che potrà Fa più di tanto E fa gol Però è questo il problema Regà È questo il problema Che se ti bloccano Le fasce Tu non giochi più Tu non giochi più A meno che Non ti regalano qualcosa Perché se oggi Il Bologna Non ci avesse regalato Quelle due occasioni Allora noi Non avremmo avuto Un'unica occasione Durante la partita Che è quella di Vesino Che l'ha sparata in curva E basta Però va bene Basta parlare dell'Ital Parliamo della partita Roma e Milan Bellissima partita Regà Soprattutto nel finale Dove le squadre Si sono allungate Il Milan Regà Intelligentemente Ha giocato di contropiede Perché La Roma La Roma Dopo il 7 a 1 Dova per forza Fare una partita di carattere Per forza Se no li linciavano Se no li linciavano E così ha fatto Regà La Roma ha fatto Una gran bella partita E il Milan Si è salvato Più di una volta Con Donna Roma Che ha fatto una parata Più bella dell'altra Zaniolo Un'altra volta Te pareva Che doveva segnare Zaniolo Ma tanto ormai Lo dovremmo rimpiangere a vita Inutile che ne sto qua a parlare Zaniolo segna Io ripeto La Roma Doveva vincere Sta partita Forse anche Con bello scarto di reti Tipo 3-4-1 Almeno Doveva vincere Secondo me Però Sta di fatto E' finita 1-1 Meglio per noi Cioè pensate raga Che culo ci abbiamo avuto Roma-Milan 1-1 E le teniamo a distanza Io non so Io non so Per quanto tempo ancora Avremo tutto sto culo Io non lo so Per quanto tempo ancora Io ho detto Ragazzi Se sta partita Finisce 1-1 2-2 Se pareggiano E' proprio Vuol dire Che ci avevamo culo Ci avevamo culo Pure perdendo Noi ci abbiamo culo Cioè vi rendete conto Vi rendete conto Roma-Milan 1-1 E noi le teniamo a distanza Va bene Io Mi domando Per quanto tempo ancora Potremmo continuare a dire Che stiamo in Champions League Perché Continuando a giocare così Mi sa pure per poco Con tutto il culo Che ci abbiamo Perché noi Ragazzi Se oggi avesse vinto Per dire il Milan Adesso ce l'avremmo avuto A meno 2 A meno 2 E noi rischiamo Non il terzo posto Noi rischiamo la Champions Perché raga Sotto Stanno a correre Sotto Stanno Stanno una marea di squadre In pochissimi punti Ci sta il Milan Ci sta la Roma Ci sta la Lazio Ci sta Pure l'Atalanta Perché non dimentichiamoci Che l'Atalanta Comincia a vincere Comincia a vincere bene E se l'Atalanta Continua a testo passo Ci arriva in Champions League Non vi pensate Non vi pensate Perché l'Atalanta Raga Nessuno Nessuno ne sta pensati C'è l'Atalanta Arriverà in Europa League Sì Sicuramente Arriverà in Europa League Ma guardate Puoi punta alla Champions Se continua così E noi ci rimettiamo sempre Perché l'anno scorso Ci siamo andati così A bucio di culo Con l'ultima Con il crotone Che ferma la Lazio Alla penultima giornata E ci salva il culo Ci salva il culo E poi La partita contro la Lazio Arriva Alla partita contro la Lazio Dove abbiamo vinto 3 a 2 Ma Raga Cioè Sinceramente La Lazio merita molto di più Molto più di noi Il passaggio in Champions Di che parliamo E noi in Champions Siamo andati avanti Tra virgolette A bucio Pure di là di culo Quindi Basta Sinceramente Io voglio vedere un Inter Che gioca a calcio No che spera Nella sculata Perché se cominciamo A giocare a calcio Vedete che i gol Arrivano Le vittorie arrivano Perché raga Io l'ho sempre detto Il problema nostro Non è la difesa La nostra difesa Perché quando noi perdiamo Raga O quando pareggiamo Non è che pareggiamo 3 a 3 4 a 4 Ci stanno ovviamente Le eccezioni Tipo Atalanta Inter 4 a 1 Ci stanno le eccezioni Ma la maggior parte Delle partite Che abbiamo Non vinto Le abbiamo vinte O pare Le abbiamo I risultati Sono maturati Con pochi gol Subiti da noi Cioè 1 a 0 1 a 1 2 a 1 Neanche 2 a 1 Non ci abbiamo mai perso Se non sbaglio Cioè Tutte partite così Con un gol di scarto Ma pochi Dico c'è 1 a 0 1 a 1 Questo è il problema Il problema dell'Inter È il centrocampo Prima di tutto Il gioco Il gioco Raga perché il gioco Non esiste A Milano All'Inter No a Milano A Milano Milano c'è l'ha il gioco Infatti si è visto E Il E l'attacco Questi sono i tre problemi Dell'Inter Secondo me Il gioco L'attacco E il centrocampo Questi Praticamente Mezza squadra Se non di più Quindi regà Vediamo che dovevamo fare Va bene Comunque Roma a Milano Incendata di culo Pure stavolta Bellissima partita Il risultato Secondo me Bugiardo Perché doveva vincere la Roma Secondo me Però Tanto è finita 1 a 1 Meglio per noi E niente Iscrivetevi al canale Mettete tanti vi piaci Attivate la campanellina Perché se non Vanno le notifiche E niente Ci vediamo alla prossima volta Ciao regà Ciao